Ciao a tutti! Oggi prepareremo il cappuccino al contrario al cioccolato o dalgona chocolate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono cacao amaro, zucchero, panna fresca per dolci, latte e scaglie di cioccolato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo nel boccale il cacao amaro e lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Versare la panna che deve essere ben fredda. Noi potete azionare il bimbi senza tempo e senza misurino a velocità 4. La crema è pronta trasferiamola in una ciotola. Trasferire la crema in una sac a poche. Componiamo il cappuccino. Mettere dei cubetti di ghiaccio. Versare il latte. E decorare con la crema al cioccolato. Decorare con le scagliette di cioccolato. Cappuccino al contrario al cioccolato o dal gona cioccolate. Grazie e alla prossima ricetta. Cappuccino al cioccolato. Cappuccino al cioccolato.